ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale è questo un nuovo video degli rp e io sono maxi ragazzi allora come avevo anticipato questo è un diciamo un modo per fare rp perché sta bassissimo di livello quindi per i livelli 6 dai livelli 6 in su allora cosa bisogna fare andare in created rockstar missioni e dobbiamo andare a selezionare una missione di simeon che si chiama recupero a rockford hotel questa missione la possono giocare tutti a livello 6 insomma da livello 6 in su diciamo e in questa missione cosa bisogna fare lo stesso che abbiamo fatto nell'altra missione con il carro però in questo caso senza carro perché giustamente uno a livello 6 non c'è il carro quindi almeno che non glielo prestino non può avere il carro insomma allora procediamo allora prima di tutto cosa bisogna fare una volta avviata la missione avvieremo giustamente la missione per noi soli e quindi andremo a settare tutto andremo a comprare le armi allora per quanto riguarda le armi per quelli a livello 6 alcuni diranno ma ma non ci sono armi adesso andremo a vedere allora per quelli a livello 6 ci sono diciamo delle armi sbloccate che rockstar ha ammesso per per parecchie persone questi sono i tipi di armi avete anche il bazooka termico le mine di prossimità la carabina speciale fucile bull pop insomma ci sono tantissime armi quindi anche a livello 6 si può si può diciamo già avere un bel arsenale ragazzi quindi dopo aver visto le armi andiamo a recuperare questa cosiddetta auto anzi questa auto a roxford hotel come avete visto è una cazzata ragazzi quindi ricordate sempre di mettere il massimo di difficoltà al massimo livello quindi vi darà gli rp doppi e tutto il resto dopo di che dopo aver fatto questo basterà tirare l'attenzione dei poliziotti insomma rompiamo il cazzo dei poliziotti un pochino ogni tanto non guasta dopo di che ci andremo a nascondere sempre questo dentro questo glitch ragazzi che torna molto utile parecchie volte insomma no anche per fare questa missione torna utilissimo perché a livello 6 uno muore talmente facilmente che invece così abbiamo la possibilità di essere invincibili alla polizia e fare tutto il cazzo di casino che vogliamo anche senza carro ragazzi quindi non abbiamo nessun problema siamo qui i nostri dieci minutini ammazziamo abbastanza poliziotti per poter diciamo recuperare più rp possibile allora nel caso di chi fossi a livello 6 dovremmo aspettare che ci toglierà le stellette del livello di sospetto perché non avendo ancora l'essere quindi come contatto dovrà aspettare di che le stellette di sospetto vadano via invece nei casi superiori a livello 6 chi avesse il contatto l'essere può chiamare può chiamare l'essere farsi levare la polizia e andare a consegnare la macchina però ricordo sempre che anche le stelline sono 100 rp ogni stellina quindi sono altri 500 rp vi lascio al resto del video un saluto da maxi e al prossimo video ciao 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 ciao